Oggi ci vedrete alle prese con il pesce perché prepariamo linguine con le vongole. Iniziamo versando un filo d'olio in una padella e poi versiamo due spicchi d'aglio. Mentre l'aglio soffrigge aggiungiamo le vongole. Ovviamente gli esparchi possono comprare le vongole pesche in pizzeria in pescheria. Noi invece le abbiamo comprate al supermercato e sfidiamo la sonata e le solioni come al nostro solito. Perché sono surgelate. Perché sono più surgelate. Se Dio ce la mandi buona anche oggi. Nel frattempo che le vongole si cucinano tagliamo anche i pomodorini e il prezzamolo. Cioè faccio un pomodoro e un prezzamolo. In un'altra padella abbiamo aggiunto un filo d'olio e un altro po' di aglio. E ora aggiungiamo i pomodorini e un po' di prezzamolo. Adesso sfumiamo le nostre vongole con vino bianco. Abbiamo messo già a bollire l'acqua e ora travasiamo i pomodori e le vongole. Ed ora facciamo cuocere le nostre linguine. La pasta è pronta quindi la scoliamo. Adesso mischiamo pasta e condimento. Cristina versa la pasta. Daniela mi aiuta. Scusa. E ora versiamo il condimento. Ci è voluto un bel po' di tempo. Ma ci siamo armati di pazienza e il nostro esperimento è riuscito. Quindi buon appetito da Inespetta in cucina!